bene 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 ciao ragazzi benvenuti in una puntata del corso batteri maker o meglio ciao ragazzi e ciao ragazze si ragazzi avete capito bene c'è anche qualche ragazza o meglio una ragazza iscritta al corso batteri maker è un ingegnere elettronico e si sta diciamo interessando tantissimo nel mondo delle batterie e io comunque sono fiero felice entusiasto che questo corso sta davvero piacendo e oggi ragazzi come è vero dall'immagine parliamo di questo prodotto questo prodotto cos'è ragazzi questo è un tester per batterie però non un normale tester per batterie questo è un tester per pacchi batterie litio l'if e più 4 a forse anche l'etio dipende dai modelli e poi litio ioni normali il suo funzionamento qual è il suo funzionamento è quello di testare il pacco batteria finito o i pacchi batterie commerciali li prendi per esempio un pacco batterie 48 volt lo colleghi a questi due connettori vai a programmare dal display la tensione di questo pacco batterie gli dici che un 48 volt lui internamente cosa va a dei resistori dei circuiti appunto che diciamo simulano un carico e poi scaricarlo con massimo 20 ampere di uscita perciò è un carico fittizio misurato e di massimo 20 ampere vedi perfetto questo serve a fare cosa a vedere se nel concreto il pacco batterie che ha il monopattino la bici elettrica è di qualità e rispetta l'etichetta perché se nell'etichetta hanno per esempio scritto 7 am per ora quando vai a misurarlo deve darti circa 7 am per ora o ancora 15 am per ora deve darti circa 15 am per ora se ti da 10 am per ora ragazzi è un pacco batteria fake come quasi tutti i pacchi batterie cinesi di bassa qualità e basso prezzo sono fake e con questo potrei andare a verificare appunto questo quant'è la capacità del pacco batteria che devi analizzare che vuoi analizzare è importante per voi sapere questo perché perché nel vostro laboratorio questo non deve mancare e non può mancare dovreste averlo sia per testare i pacchi batterie finiti dal momento in cui lo avete finito è sempre buono testarlo vedere nell'effettivo quant'è la capacità effettiva anche se ragazzi utilizzando celle buone di qualità nuovo 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 facendo due calcoli matematici cioè la somma dei paralleli si arriva su per giù a sapere quant'è però se uno vuole fare il precisino e può con un aggeggio di questi che poi su alibaba ragazzi ne trovate di tutti i tipi di tutti i brand di tutte le dimensioni sulle potenze siamo sempre lì massimo 20 ampere come corrente di scarica massima 20 ampere vuol dire ragazzi che tu in quella batteria stai andando a mettere un carico continuo di 20 ampere però io non consiglio di mettere 20 ampere su qualsiasi batteria perché molte bms come sappiamo farlocche hanno correnti di scarica forse anche più basse di 20 ampere e non ti possono diciamo tenere un 20 ampere sempre poi ovviamente in base alla capacità della batteria cambia più o meno il tempo per questo test alla fine ti dice il voltaggio iniziale voltaggio finale e capacità misurata ragazzi per questa puntata del corso batteri maker tutto sotto in descrizione trovi tutti i link l'unico corso nazionale e internazionale sulla customizzazione di pacchi batteri e litio iscriviti anche tu tantissimi i miei studenti oggi stanno studiando si stanno applicando in un settore davvero davvero buono sia economicamente che come soddisfazioni personali ti ricordo anche i miei fascicoli tecnici cartaici che trovi su amazon sono pacco batterie 3s 7s 10s c'è anche quello sui pannelli fotovoltaici da qualche giorno online anche un fascicolo o anche guida come vuoi chiamarla sui monopattini elettrici questa è la cover e se vuoi se sei interessato vai su amazon e c'è